Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Questo scenario, la strada, era già stato importante nel racconti dei Vangeli. Ora lo diventerà sempre di più, nel momento in cui si comincia a raccontare la storia della Chiesa. Ci chiediamo cosa siamo venuti a fare, cos'è l'amore, stringiamoci più forte ancora, teniamoci vicino al cuore. Sì, vorrei. L'amore in vano, così leggero. Sì, venerdì due e sabato tre giugno c'è un imperdibile Chiusi Scalo. Info su chiusinvetrina.it Le offre l'opportunità di farsi una propria cappottina personale anche sul filmatizzatore vecchio o che a misura non rientrano nei modelli in produzione.